salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video anche oggi un video sullo star che ve tocca in questo periodo però ci sono delle importanti notizie che arrivano direttamente dallo star che dal team e sono ufficiali oggi c'è il lancio per tutti free to play quindi arriverà una marea di gente nuova e i server sicuramente avranno dei problemi per questo hanno preso in considerazione due soluzioni il team di lo starc uno quello di aumentare il numero di server e fra poco lo vediamo ma l'altro molto interessante hanno dato la possibilità di redimere nuovamente i founders pack di chi già lo ha fatto in questi tre giorni anche su un nuovo server ora il problema delle code è stato abbastanza importante ne hanno parlato anche loro nel video di ieri avevo detto che c'era questo problema molti mi hanno un po bacchettato col fatto che su neria il server diciamo della comunità italiana non c'erano praticamente code ed è vero perché io stesso poi ho provato e effettivamente anche in un orario di punta effettivamente non c'erano code ma devo dire che chi ha scelto neria nella comunità italiana è stato abbastanza fortunato perché non è stato così per molti altri server tant'è che ieri stesso un bel numero di server sono stati bloccati per nuovi personaggi creati 5 praticamente in europa e altri 2 4 6 in negli stati uniti questo perché erano completamente overloaded avevano più di 5.000 10.000 o anche di più persone in coda per entrare praticamente a ogni ora del giorno per esempio su zinnervale dove io sto giocando anche all'ora di pranzo c'erano 5 6.000 persone in coda tant'è che io e la mia gilda probabilmente stiamo valutando la possibilità di spostarci spostarsi di server non c'è un transfer server quindi perdereste comunque la progressione nel senso il vostro personaggio rimarrà lì del suo livello però ci sarà la possibilità entro il 14 di febbraio cioè lunedì di poter redimere tutti i founder pack anche su un altro server e questo è interessante è un incentivo in più per i pack dal silver al platinum ci aggiungono in più dei royal crystal 150 per il silver 500 per il gold e 1000 per il platinum questo appunto per incentivare la gente a spostarsi dai server overloaded a quelli nuovi che stanno mettendo ne hanno messo uno parlo dell'europa principalmente perché ci interessa l'europa oggi stamattina o ieri sera però qui ci dicono che dalle 18 perché in questo momento che faccio il video è in maintenance tutto lo stark e ripartirà alle 18 con il gioco free to play per tutti per europa arriveranno altri 2 4 6 server nuovi quindi altamente consigliato per chi è nei server overloaded di pensare di spostarsi in questi nuovi il fatto comunque di poter redimere nuovamente il founder pack e a favore di chiunque avesse avuto un founder pack in questi giorni quindi ve lo dico come consiglio anche se siete su neria e non avete code anche se ora che si apre free to play non è detto che cominceranno a esserci perché magari tutti gli italiani che vogliono solo provare lo stark ma non erano convintissimi si riverseranno su neria quindi è possibile che cominceranno a esserci code appunto anche per quelli di neria ma non solo perché non tutti gli italiani sono su neri ecco prendete in considerazione la possibilità di crearvi un secondo personaggio su un altro server ovviamente se avevate un founder pack per redimere nuovamente questi bonus su un altro server magari quelli nuovi giusto così non si sa mai dovesse esserci dei problemi poi di troppo troppo lunghe magari avete questa possibilità di aver avuto redimato in due server diversi tutti i bonus quindi questo è un modo che cercano di parare il colpo chiaramente non so se funzionerà nei server super stracarichi di gente perché molti comunque non vorranno andarsene vedremo un po cosa succede non ho neanche idea di quanta gente nuova arriverà in questi giorni soprattutto in questo weekend perché è un weekend di fatto il picco è stato in questi giorni di prelancio diciamo così solo coi founders intorno ai 500.000 concurrent su steam secondo i numeri di steam non ho idea quanto arriveremo in questo weekend probabilmente oltre il milione penso di sì chissà magari addirittura anche molto oltre il milione non ho la più palida idea quindi vedremo quale sarà la risposta anche di amazon sui server e tutto quanto questo video è proprio è unicamente per questa news che è molto rilevante vi ripeto che lo capisco che la maggior parte di italiani sono su neri e non hanno avuto problemi ma il problema delle code è stato molto grosso nella maggior parte dei server sia europei che americani quindi è importante che lo prendano in carico in qualche modo un qualche soluzione questa può essere una soluzione sicuramente sono contento che siano stati molto tempestivi a proporre questa alternativa e refound sui founder pack e il mettere nuovi server in gioco vediamo se basteranno però perché onestamente non credo che si sappia esattamente qual è il cap massimo dei server di lost ark almeno io non lo so non lo non sono riuscito a scoprirlo per il resto il gioco è una figata e nei prossimi giorni usciranno anche qualche gameplay mio di qualche quest particolarmente bella o di qualche altro contenuto il gioco veramente mi sta piacendo parecchio parlando del gioco in sé e comunque arriveranno anche dei video proprio sul gioco non solamente sulla questione di server ovviamente quindi chiudiamo e ricordatevi appunto che se avevate un founder pack in questi giorni potete redimerlo nuovamente su un altro server possibilmente uno di quelli nuovi per il resto ragazzi ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale sempre sul gaming a 360 gradi e se volete vedere altri video sullo stark c'è una playlist dedicata una buona giornata a tutti ci vediamo alla prossima ciao ciao